a fine campionato 87 82 punti peccato ci siamo andati vicini a vincere questa serie però raga non tutto può andare come come ci prescriviamo durante le stagioni le partite non si scrivono ragazzi fanno in genere perché ajax si offre l'offerta di trasferimento io sono indeciso di accettare con l'ajax a me come squadra mi piace tantissimo ragazzi cosa faccio accetto rifiuto come potete vedere abbiamo accettato l'offerta dell'ajax abbiamo allenamento prima partita della stagione con l'ajax anche della nostra carriera partiamo ovviamente da sostituti qui ovviamente nuova squadra nuovo ambiente tocchiamo il nostro primo pallone con l'ajax vediamo se riusciamo a fare subito un'azione vediamo che cosa riusciamo a fare attenzione questa questa azione bellissima possiamo addirittura anche trovare a tirare in posta primo tiro stifoso come sembra guardami cosa noi ok perfetto ci posso riprovare peccato occhio al corner attenzione perché la potevano prendere peccato non è finito ancora è ancora nostra la palla è ancora nostra vediamo se riesce a aggiungere qualcuno la palla rimane lì attenzione perché io sono fuori gioco fuori gioco forse troppo lungo invece no ti arriva puoi trossarmela in mezzo perché ci sono peggio del palermo attenzione possiamo ripartire possiamo ripartire nuova azione nuova possibilità guarda che io ci sono qua che cazzo di cross da quella distanza ce l'ho fatta ho fatto record all'esordio ok perfetto così perfetto così guardami che sono qua puoi anche tentare un cross invece non lo tenta più io sono al centro niente da fare il passaggio sballato bellissimo attenzione attenzione perché sono da solo ci posso provare me la faccio parare come un deficiente porca puttana in velocità tutto in velocità tutto in velocità perfetto così perfetto così passamelo 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 che ci trovi ma in porta i tifosi lo vengono invitata che la puoi accacciare recupero una palla incredibile tutto per merito mio tutto per il passaggio bellissimo due per la rete con questa e doppietta per lui mica male come esordio esordio sono liberato alla perfezione faccio continuare l'azione ma perché questi tiri merda perché vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro purtroppo non sono proprio libero però adesso mi sono liberato di testa me l'ho parata però l'avevo fatto niente da fare vediamo finisce in vittoria grazie una mia doppietta giochiamo quest'altra partita amichevole senzioni perché questa è un'azione buona per me è un'azione buona per me ci posso provare tutto inutile tutto inutile però ancora non è finita ancora non è finita perché guardami guardami che me la puoi passare ci posso provare ancora non è finita rete rete azione ben costruita qui possiamo prestare meglio raggiungi i golli con cui ho trovato il gol mi libero si trova troppo centrale d'ebole il tiro peccato vediamo se lo salto lo salto lo salto lo salto lo salto questo è fallo crossa nella porca troia vai così vai così se avanziamo forse riusciamo a fare qualcosa ma non è che ci dobbiamo far fottere il pallone porco demonio vai prendilo 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 perché sono qua passavolo bellissimo bellissimo ci provo è il gol bellissimo questo 2 a 0 partita chiusa bellissimo bellissimo crossamela crossamela vediamo se riesco a prenderla vediamo se riesco a prenderla peccato peccato non sono riuscito a tenerlo e dice qui il primo tempo 2 a 0 dobbiamo recuperare il pallone dobbiamo recuperare il pallone non dobbiamo farli arrivare in attacco in nessun modo attenzione attenzione perché questa è buona per loro questa è buona per loro questa è buona per loro vai avanti che facciamo una strazione bella faccia sulla fascia bellissimo crossamela 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 che sono solo di testa palo palo ci è mancato poco ci è mancato poco crossamela ci riprova di testa ancora palo non è possibile due volte di testa palo non è possibile meno male che sulla ribattuta ho fatto gol vai recupera la palla attenzione a questa squadra che non so nemmeno pronunciare porco demonio la mette in mezzo e per fortuna la difesa riesce a recuperare la palla cerco di liberarmi in qualche modo vediamo se ci riesco ma passale in mezzo almeno porco demonio non la riesco a prendere questo è un bel casino adesso è un bel casino perché possono ripartire allora se ne torno indietro così vai va palla recuperata attenzione vediamo se riesco a saltarlo ci riesco incredibile incredibile che bellissima azione l'azione era bellissima però potete dire quello che volete ma l'azione era bellissima passamela qua che sono libero passamela passamela bellissima vediamo se ne lo salto vediamo se lo salto lo salto ma ce n'è un altro da saltare ancora lo salto e purtroppo l'ultimo non sono nessito a saltarlo dai che è vinta pure questa porco demonio contrasto efficace grandissimo vediamo cosa vuoi fare porco demonio me lo so nunca troppo porco demonio vabbè 3 a 0 non si passa da qui siamo noi i campioni di quest'anno ricordatevi ve lo dico inizio stagione manco comincia la stagione quest'anno vinceremo tutto andiamoci a giocare quest'altro amichevole contro l'Overton vinceremo anche questo dai che riusciamo a fare già il primo gol no è apparato finalmente ne avete visto posso tirare porco demonio che cosa è successo che cosa è successo giuro non ho capito che cosa minimamente ci è successo che successo è una cosa incredibile vabbè vabbè prendiamoci questo gol e andiamo avanti vai così passamela sta palla passamela vediamo se riesco a saltare ci provo così 3 a incredibile siamo fortissimi siamo fortissimi 2 a 0 subito chiusa bellissimo un altro contrasto un'altra azione costruita da noi attenzione non ci ferma nessuno ci prova ancora me l'ha parata attenzione non è ancora finita non è ancora finita ci posso riprovare non è ancora finita ancora incredibile e questa volta mi ha fatto il contrasto però niente paura perché noi siamo ancora qui contrastato ancora un altro tiro ma è nel postiere loro però non stanno sbagliando un colpo hanno sfruttato eh vabbè quello è fallo tempo è qui può starci il cartellino l'arbitro che lo guarda è strike cartellino ciao guai 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 ciao 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 Grazie a tutti.